Un ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto, un appuntamento particolare, ormai vi starete abituando anche a questo, mezz'ora di tempo in vostra compagnia, in questo caso in compagnia anche di Elite Car e parleremo di cose sicuramente molto molto interessanti con Alberto. A te. Ciao Rosi, ciao a tutti. Vi ricordo prima di proporvi le macchine di questa sera che Elite Car si trova a Magenta in corso Italia 40 di fianco all'ipermercato di Magenta, facilissimo veramente da raggiungere in quanto se fate la Milano-Torino l'uscita a Mar Callo Mesero ci trovate sulla destra, quindi veramente a due minuti dall'uscita dell'autostrada. Detto questo comincerei subito a proporvi le occasioni di questa sera e partiamo con la gamma Volkswagen Golf. Quindi iniziamo a parlarvi di Golf, Golf aziendali, seminuove, praticamente con pochissimi chilometri, con garanzia ufficiale della casa madre, vetture con motorizzazioni 1.2 e 1.4 benzina da 86 e 122 cavalli. Se parliamo invece della motorizzazione diesel abbiamo la disponibilità su 105 cavalli 1.6 e sul 2.000 da 150 cavalli. Disponibile anche 4 ruote motrici, ricordatevi, sempre qui da noi in Elite Car. Cambio automatico e cambio manuale. Tutte queste vetture in gran parte sono fornite di climatizzatore automatico, bluetooth telefonico collegato all'autoradio e navigazione, non in tutti i casi però in diversi casi abbiamo anche la navigazione. Abbiamo i sensori di parcheggio anteriore e posteriori con l'ausilio al parcheggio, quindi quel dispositivo che vi parcheggia la vettura in automatico. Cos'altro dire? Sensore pioggia, sensore luci, computer di bordo. Insomma veramente delle vetture super accessoriate. Vetture come nuove, disponibilità di tantissimi colori allestimenti, quindi comfort line, high line, tutte queste vetture le troverete qui in Elite Car. Sempre per quanto riguarda poi la permuta dell'usato, super valutazione del vostro usato, anche una vettura da rottamare esempio pratico che vale circa 1.000 euro, 1.500 euro, riusciamo a darvi anche 3.000 euro in base alle condizioni della vettura. Penso che sia una cosa da non sottovalutare. Per quanto riguarda anche i finanziamenti, abbiamo la possibilità di fare un tasso di interesse agevolato, maxirata, minirata, leasing, perché queste vetture, vi ricordo, hanno l'IVA esposta, quindi anche per un'azienda che deve scaricare o una partita IVA individuale, possono usufruire dell'IVA, quindi dell'ammortamento d'IVA. Detto questo, direi di fare una cosa che di solito non si fa nelle trasmissioni televisive, ma è a far vedere i signori che ci seguono, magari una vera compravendita che si può, diciamo, riscontrare qui in Elite Car, proprio dal vivo. Faccio io la tua cliente, Alberto? Fai tu la mia cliente. Perfetto, andiamo. Ok. Allora, parlavamo di Golf, quindi ti faccio un esempio pratico su Volkswagen Golf. Perfetto. Tu hai una permuta? Sì, avrei una macchinina da dare, una Smart. Perfetto. Oh, tipo questa? Ottimo. Assolutamente come questa, non della polizia, ma come questa. E non di queste dimensioni. Ecco. Detto questo, allora, esempio pratico. Diciamo che la Golf TDI 1600 ti costa 19.800 euro. Da questa spesa che è il prezzo proposto, noi dobbiamo mettere la messa in strada, che è l'immatricolazione della vettura in Italia, quindi la spesa è di 890 euro. Immatricolazione in Italia, ricordiamolo, perché sono vetture che arrivano direttamente dalla fabbrica, dalla Germania. Quindi rimatricoliamo la macchina. Cosa facciamo? Se c'è l'usato, ci sono altre 250 euro di spese che riguardano il passaggio di proprietà dell'usato. La totalità dell'importo sono esattamente 20.940 euro. Come facciamo a dare un importo al tuo usato? In questo modo. Apriamo Eurotax, che è un sistema telematico che non tutti hanno. andiamo a cercare la vettura. Quindi, esempio pratico, io mi sposto su Smart, vado su... Di che anno è la tua Smart? 2006. 2006. Poi, più o meno il mese di immatricolazione? Aprile. Aprile, quindi 4. Modello, è una 4-4, una 4-2? Una 4-4. Perfetto. 1.500 turbodiesel. Ok, allora, 1.500 turbodiesel. Allestimento, quando io ho aperto, ho individuato il modello, mi dà una tendina con diversi allestimenti. Cos'è? Una Passion, una Pulse? Passion. Passion, perfetto. Ok. Con cambio automatico? No, cambio manuale. Manuale, perfetto. Chilometraggio, più o meno? 140.000 chilometri. Però l'abbiamo usata questa macchina. Assolutamente, viaggio sempre Alberto, cammino molto. Allora, esempio pratico. Per Eurotax, il valore è di 2.200 euro, ma in base alle condizioni della vettura di motore estetica, noi possiamo arrivare anche a riconoscere 2.000 euro in più. Adesso arrotondo, guardare. Comunque, la vettura varrà 4.040 euro, perché abbiamo 29.40 di partenza, differenza, 16.900 euro in strada. Certo. Quindi vuol dire che noi chiediamo questo importo, senza un altro importo da aggiungere. È tutto compreso, 16.900 euro. Ecco, mi sembra molto chiaro l'esempio che hai fatto. Grande trasparenza, visto che comunque è uno degli slogan che ci tenete a sottolineare, anche perché è la vera realtà. Questo è qui, scritto sulla carta, Eurotax, la valutazione del vostro usato, in più, appunto, tutto quello che vi può offrire i di più Elite Car. Per cui venite qui, naturalmente, con la vostra permuta, telefonate o venite personalmente, che è la cosa migliore, e chiedete informazioni a Alberto o agli altri collaboratori. Bene, grazie Alberto, naturalmente, per tutte queste informazioni, che saranno state preziosissime anche per i nostri amici telespettatori. Nel frattempo siamo usciti dal tuo ufficio e, naturalmente, continueremo a parlare di Volkswagen, in questo caso di Polo. Una cosa sola, non ti ho chiesto per i finanziamenti. Posso pagarla con un finanziamento la vettura? Assolutamente sì, a tasso agevolato, per il nuovo anche a tasso zero. Infatti, parliamo di gamma oltre Golf, ora passiamo a parlare di Polo. Anche qui potete trovare, qui da noi, anche la vettura aziendale, in questo caso precedente generazione, e poi parliamo di nuovo perché è uscita la Polo nuova, ormai da qualche mese. In questo caso una vettura di un anno di vita, con pochi chilometri, 1.200 benzina tra cilindri, 60 e 75 cavalli, a 10.900 euro. Per invece la motorizzazione turbodiesel, si ha 1.200 da 75 cavalli, a 12.900 euro. Vi ricordo che sempre sull'usato abbiamo anche la possibilità di supervalutare il vostro usato, se c'è un usato in permuta. Inoltre, per chi di voi avesse bisogno di finanziare la vettura, un tasso di interesse agevolato. E parliamo di nuovo, in questo caso Polo si è rinnovata anche per i propulsori. Quindi abbiamo un 1.000 da 60 e 75 cavalli, un 1.200 con motore TSI da 90 cavalli. I prezzi del benzina partono da 12.600 euro fino a un massimo di 18.000, ma con cambio automatico. Per quanto riguarda invece le motorizzazioni turbodiesel, abbiamo un'unica cilindrata 1.400. I cavalli proposti sono 75 o 90, anche qui disponibilità di cambio automatico, ovviamente DSG. Gli allestimenti sono Trendline, Comfortline e Fresh. L'allestimento Fresh prende, magari per chi di voi è un po' più ferrato sull'argomento, prende il posto del modello Highline che troviamo anche in Golf. Quindi vetture veramente, insomma si parla di nuovo, quindi vetture nuove. Tasso agevolato e in alcuni casi anche tasso zero. E non dimentichiamo il premio permuta legato al vostro usato. Quindi anche sul nuovo c'è una supervalutazione dell'usato. Proseguiamo adesso con il resto della gamma Volkswagen. Ed ora parliamo di app, app 1000 benzina, in questo caso cambio manuale con autoradio climatizzatore. Cinque porte di colore nero, aziendale, pochissimi chilometri, a 9.900 euro. Disponibile qui da noi anche il modello con cambio automatico in arrivo, con pochissimi chilometri, a 10.900 euro. Quindi anche qui si parla di una vettura dove possiamo supervalutare il vostro usato. C'è un tasso di interesse agevolato legato a questa macchina. Cos'altro? Venite a trovarci perché abbiamo diversi esemplari da proporvi. Prima di passare in gamma Audi e parlarvi di Audi A1, vi ricordo sempre, restando in Volkswagen, che abbiamo anche la possibilità di procurare l'intera gamma Volkswagen. Quindi, non lo so, Turan, Tiguan, Passat, motorizzazione, allestimenti. L'intera gamma veramente in buono stato, un anno di vita, pochissimi chilometri, ha degli ottimi prezzi. Legato sempre supervalutazione del vostro usato e tasso di interesse agevolato. Ed ora, passiamo in gamma Audi e parliamo di A1. A1 avremo sicuramente, abbiamo, chiedo scusa, la disponibilità sia di vetture aziendali con pochissimi chilometri, ma anche chilometro zero. L'Audio A1 si sviluppa in due modelli, quindi 3-5 porte, quindi Audi A1 e Audi A1 Sportback, motorizzazioni benzina e diesel. In questo caso noi abbiamo 1.2 benzina, motore TSFI da 86 cavalli a 5 porte, con autoradio, con bluetooth telefonico integrato, climatizzatore, fendinebbia e cerchi in lega, a 15.900 euro. E poi abbiamo anche i chilometri zero, come questi alla mia sinistra, che sono con motorizzazione, 90 cavalli, 1.6 vetture, che possono utilizzare anche i neopatentati, importantissimo, a 18.900 euro, e a 19.900 euro per il pacchetto S-Line, quindi il pacchetto sportivo di Audi. Su queste vetture, vi ricordo che c'è sempre la supervalutazione del vostro usato e un bel finanziamento a tasso agevolato per voi, sia maxirate, minerate, vetture esposte d'IVA, quindi anche qui sono leasingabili, quindi per chi avesse l'esigenza di fatturare la macchina, sono e vi è esposta. Cos'altro dire? Ha 12 mesi di garanzia, o meglio, 24 mesi di garanzia, sulle chilometri zero, e 12 mesi per le aziendali. Ad ora passiamo ad Audi A3, quindi una bellissima Sportback di colore bianco, 5 porte, disponibili vetture aziendali con pochissimi chilometri, e veramente come nuove, con autoradio MMI, con bluetooth telefonico integrato, clima automatico, fendinebbia, cerchi in lega, disponibilità anche di cambio, automatico, o 6 rapporti manuale, cilindrata, 1.6 diesel da 105 cavalli, o 150 cavalli, a partire da 21.900 euro. Su queste vetture, sicuramente siamo in grado anche di supervalutare il vostro usato, e di dare, come nelle precedenti vetture viste, un tasso di interesse agevolato, riguardo al finanziamento leasing. Ed ora passiamo in gamma Audi A4, in questo caso Avant, disponibile anche Berlina, comunque tornando a parlare di Avant, è una vettura unica, che ha fatto un grandissimo successo negli anni, e continua a vendere un sacco di esemplari. In questo caso vettura aziendale di un anno, con pochissimi chilometri, anche qui abbiamo, importantissimo ricordarlo, il 5 anni di garanzia Audi ufficiale, quindi siete coperti in tutta Europa, non solo qui in Elite Car. Questo è un modello ambiente con cerchi in lega, fari allo xeno, sensore di parcheggio interiore e posteriore, climatizzatore a tre zone, potete averla sia con il cambio manuale a sei rapporti, o con il cambio automatico. Le motorizzazioni disponibili sono il 143, 150 e 170 cavalli, CDI ovviamente, Euro 5 con filtro antiparticolato, a partire da 29.800 euro. Per quanto riguarda la valutazione del vostro usato, anche qua possiamo offrire una super valutazione, anche per quanto riguarda, io poi sto andando abbastanza veloce, però se voi aveste anche una rottamazione, si intende anche rottamazione in valutazione, non solo una vettura che ha un valore iniziale, quindi anche una vettura da rottamare ha il suo valore, e noi ve lo andiamo a super valutare, e lo scontiamo dal prezzo della vettura. Questo era importante ricordarlo. Per quanto riguarda invece i tassi di interesse agevolati, anche qui abbiamo un ottimo tasso di interesse da proporvi. Cos'altro dire? Venite a trovarci, perché queste macchine sono veramente belle, affidabili, vanno molto bene, quindi non resta che venire qua a provarle, e a cercare di capire, insomma, se abbiamo la vettura che fa per voi. Ad ora parliamo di gamma Q5, quindi come la vettura che state vedendo alla mia destra, è una vettura bellissima, con pochissimi chilometri, un anno di vita, e una cosa importantissima, è una vettura che ha 5 anni di garanzia, 5 anni di garanzia non Elite Car, ma Audi ufficiale. Macchina con accessori che vanno dal cambio automatico, i fare all'oxeno, i sensori di parcheggio, il navigatore cartografico, il clima automatico tre zone, quindi una macchina veramente completa, a un prezzo molto molto conveniente. IVA esposta, conseguenza anche per chi avesse bisogno di immatricolarla e dedurre l'IVA, è un prezzo deducibile. Sempre per quanto poi riguarda il vostro usato, abbiamo la possibilità di supervalutarlo, e di farvi un tasso di interesse agevolato, sempre per quanto riguarda finanziamenti o leasing. Vasta disponibilità, tutti i colori allestimenti, cambio manuale e cambio automatico. Inoltre abbiamo anche vasta disponibilità di modello Q3, con cambio automatico o cambio manuale, chilometro zero in questo caso, quindi vettura nuova, di colore bianca o di colore nero, con autoradio, con navigazione e bluetooth telefonico, fare all'oxeno, sensori di parcheggio posteriori, cerchi in lega e fendi nebbia. Quindi una macchina completa a 32.900 euro. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di supervalutare il vostro usato, e di farvi un tasso di interesse agevolato, per chi avesse l'esigenza di fare finanziamenti o leasing. E non dimentichiamo ovviamente la supervalutazione del vostro usato, anche in questo caso. Ed ora parliamo di mini countrymen. Quindi qui in Elite Car potrete trovare anche vetture di altre marche, ma sempre sicuramente marche di prestigio. Quindi come mini, mini countrymen 1.6 diesel, 82 kilowatt, 112 cavalli. In questo caso modello Cooper, disponibili colori bianco, grigio e nero, con pochissimi chilometri. Tutte vetture più o meno di un anno di vita, marzo 2014, febbraio 2014, ancora con garanzia ufficiale mini di 24 mesi. Per quanto riguarda gli accessori installati su queste vetture, quindi cerchi in lega, configurazione a cinque posti, radio MMI, con CD e presa USB. Ovviamente la chiave è con telecomando, fa parte diciamo non degli accessori, ma è di serie, funzione eco start e stop, volante sportivo in pelle a tre razze, poi sedile passeggero, regolabile in altezza e in profondità. Per quanto riguarda anche il clima, è automatico, ecco una cosa da non dimenticare, clima automatico, computer di bordo e sensore automatico, pioggia e luci. Parliamo di prezzi, queste vetture partono da 21.900 euro, più messa in strada, e anche qua siamo in grado, comunque di offrire una super valutazione dell'usato, e un tasso di interesse agevolato, per quanto riguarda finanziamento, leasing o maxi minirata. Vi ricordo che tutte le vetture sono IVA esposta, quindi anche per il professionista o l'azienda, le vetture sono deducibili. Restiamo in casa BMW e parliamo di serie 1. Serie 1, modello 118D, quindi 2000 diesel da 143 cavalli e 105 kilowatt, disponibile vari colori come argento, nero e bianco, con pochissimi chilometri, sempre vetture del 2014, febbraio-marzo, con autoradio con bluetooth telefonico integrato, cerchi in lega, cruise control, bulloni antifurto, addirittura hanno installato i bulloni antifurto su questa vettura, poi vabbè, ovviamente, sensore pioggia, sensore luci, clima automatico di serie, quindi una vettura molto accessoriata, ad un prezzo di 21.900 euro, più le spese di passaggio, quindi 8,90, e ricordatevi che comunque anche su queste vetture c'è un ottimo tasso di interesse agevolato per il finanziamento, e una super valutazione del vostro usato. Dopo aver parlato delle nostre occasioni per quanto riguarda le vetture aziendali, vi ricordo che Elite Car vi propone anche dell'ottimo usato, come per esempio questa Passat Variant, quindi modello Station Wagon 1.6 TDI, 105 CV, Blue Motion, quindi un motore diciamo più pulito per quanto riguarda l'emissione di CO2 nell'aria, modello Comfort Line, grigio metallizzato, interno tessuto, con sensori di parcheggio, anteriore e posteriori, clima automatico, vi ricordo 12 mesi di garanzia, e un prezzo di 15.900 euro più spese di passaggio. Ovviamente poi quando venite a trovarci possiamo discutere dell'ultimo prezzo in strada, ed eventualmente un ritiro del vostro usato senza nessun problema. Per quanto riguarda le altre occasioni, passiamo a una bellissima Porsche 911 Carrera 4S Coupé del 2007 con soli 54.000 km originali da 355 CV, a un prezzo eccezionale da 53.900 euro. proseguiamo con l'occasione di questa sera, parlavamo sempre rimanendo su macchine di alto prestigio, di una Ferrari 456M GT del 98 con soli, pensate, 43.000 km, vettura da 442 CV a 44.900 euro. continuiamo e vi parliamo di una vettura veramente singolare, ma bellissima, un Osmobile Catlas, una vettura del 71 con 68.000 km, signori, una vettura veramente introvabile, 268 CV a 19.800 euro. continuiamo e vi parliamo di una Jaguar XK 4002 V8 Coupé del 2006 con 45.338 km, anche qui vi assicuro tutti i chilometraggi originali, 298 CV a 28.900 euro. ML 350 Premium, 211 CV, Euro 6, soli 35.700 km a 33.800 euro. Vi ricordo inoltre che Elite Car non è solo Volkswagen e Audi, ma è anche Mercedes-Benz, quindi direi di andare a vedere qualche proposta. e iniziamo con una grossissima novità, il restyling di classe B, quindi hanno fatto un pesante restyling a livello estetico, che riguarda, entro già nel dettaglio, i fari full LED, quindi è la prima volta che su un segmento classe B inseriscono un faro full LED, non c'è più lo xeno, la stessa cosa riguarda i fari proiettori posteriori, cosa hanno fatto? in più hanno reso un pochettino più moderno lo schermo, lo schermo che riguarda l'autoradio con Bluetooth telefonico integrato e l'eventuale navigazione che si può integrare. Hanno cambiato lo sterzo, hanno adottato lo stesso sterzo che viene messo sulla classe C nuova, l'hanno inserito su classe B, hanno integrato a livello estetico la parte posteriore del paraurti, dove hanno appunto messo i terminali di scarico integrati nel paraurti, bellissimo da vedere, quindi diciamo che l'hanno resa un pochettino più moderna. Poi per quanto riguarda le motorizzazioni non cambia. Abbiamo per i motori benzina, partiamo da un 1.6 con 122 cavalli Euro 6, ricordo che la trazione è anteriore e hanno la catena di distribuzione, non la cinghia. Passiamo a una potenza, sempre restando sulla cilindrata 1.6, di 156 cavalli, poi andiamo alla 2.000 di cilindrata, sempre benzina, da 184 e da 211 cavalli. Fanno anche la versione 4-matic, quindi quattro ruote motrici permanenti. Se parliamo invece di diesel, iniziamo con una cilindrata 1.461, quindi 1.500, da 90 e 109 cavalli. Ricordo che la versione 90 cavalli può essere utilizzata anche per i neopatentati. Su entrambe, diciamo, le motorizzazioni con potenza 90 e 109 si può mettere eventualmente il cambio automatico, ricordo, a doppia frizione, a sette rapporti. Passiamo poi a un 1.8 diesel che esce con un cambio manuale, ma si può integrare anche lì il cambio automatico, da 136 cavalli. Proseguiamo con sempre 136 cavalli, però con l'aggiunta delle quattro ruote motrici. E poi abbiamo un 220, che è un 2.143 di cilindrata, un 2.2, da 177 o eventualmente addirittura da 184 cavalli. Quindi diciamo che è una vettura veramente completa, sia per quanto riguarda il punto di vista meccanico e di potenza, perché adesso Mercedes ha fatto un passo avanti, nel senso che prima eravamo un pochettino scarsi come potenza a confronto alle altre case tedesche, invece ora ci siamo portati alla pari, anzi, insomma, una vettura che vi darà delle belle soddisfazioni. Ma parliamo di prezzi, la nuova classe B parte da 24.450 euro più messa in strada. Per quanto riguarda invece una cosa veramente importante, i tassi di interesse legati al finanziamento e leasing, a partire dal 2,9%, quindi anche qui devo dire che c'è un'ottima proposta finanziaria. Quindi venite a trovarci, perché veramente, sicuramente saremo in grado di trovare la vettura che fa per voi e non dimentichiamo una cosa, chiedo scusa, la supervalutazione del vostro usato. Quindi anche qui cerchiamo, insomma, di dare il massimo per quanto riguarda il vostro usato, anche se fosse una rotomazione. Novità di questa sera e passiamo in gamma Smart. Finalmente Smart ripropone la 4-4, la famosa 2 più 2, quindi quattro posti, una vettura, veramente una city car unica, una macchina innovativa dove comunque abbiamo di serie i fari, i luci, il diurne, led, come potete vedere, abbiamo il climatizzatore monozona automatico, abbiamo l'autoradio con USB e sistema streaming per audio bluetooth telefonico, sempre di serie, ripeto, poi abbiamo il cruise control, l'impostazione di città un'autostrada di serie e una importante novità, di serie abbiamo finalmente anche il servo sterzo, mentre prima nel modello precedente, parlo di 4-2 ovviamente, era a pagamento, quindi esce, questa vettura per la prima volta esce con il cambio manuale, a breve sarà disponibile un cambio automatico a doppia frizione, più o meno fra due o tre mesi, quindi comunque in produzione ci sarà anche l'automatico. Parliamo invece di allestimenti e cilindrata. Allora, allestimenti usciamo con una Youngster che è un modello base con tutti gli accessori appena elencati, passando poi a un modello che si chiama Sport Edition 1 dove abbiamo i cerchi da 16 pollici maggiorati di colore scuro, abbiamo la possibilità di avere anche ovviamente la cellula della vettura di vari colori, il tetto panoramico è di serie sull'Edition 1 ma non di serie sulla vettura vista ora che è la Youngster, passiamo ad un altro allestimento che si chiama Passion, la famosa Passion dove abbiamo la cellula argento di serie sempre i cerchi da 15 pollici, abbiamo poi l'interno sempre in tessuto, passando al prossimo modello abbiamo una vettura un po' più sportiva con sempre cellula di colore argento con mascherina in tinta, specchietti in tinta si chiama Proxy, poi abbiamo per ultimo la Prime che è una vettura molto più sportiva quindi cellula nera, specchietti neri e mascherina nera, anche i cerchi sono profilati internamente di colore nero, cos'altro dire, questa macchina a livello di cilindrate esce con una motorizzazione benzina, la motorizzazione benzina ha una cilindrata 1000 per quanto riguarda la 61 cavalli che è anche per i neopatentati, poi abbiamo sempre sulla cilindrata 1000 un 71 cavalli e poi abbiamo una turbo da 90 cavalli, questa sicuramente sarà una macchina bella sprintosa. Passando la 4-4 alla 4-2 però prima di arrivarci vi ricordo che anche qui abbiamo un tasso di interesse agevolato per quanto riguarda i finanziamenti maxirata, minirata, leasing col 2,90 o 3,90 poi dipende un po' anche dalla tempistica del finanziamento perché se state entro i 36 mesi rimane un 2,9%, se andate oltre aumenta di un punticino comunque devo dire che è un'ottima proposta sempre a livello finanziario. Ed ora finalmente parliamo di un'altra grossissima novità una delle più importanti la nuova Smart 4-2 la vedete qui alla mia in sinistra una vettura veramente rinnovata in tutto telaio, linee quindi un design molto moderno anche qui abbiamo i fari LED luci LED diurne di serie abbiamo l'audio streaming con bluetooth telefonico integrato il climatizzatore monozona integrato già di serie il cruise control e il servo sterzo di serie quindi anche qui abbiamo veramente delle importanti innovazioni a livello di accessori sicuramente già comprese nel prezzo per quanto riguarda invece le motorizzazioni abbiamo anche qui un benzina aspirato o turbo l'aspirato si parla di un 999 quindi un 1.000 di cilindrata da 61 e 71 cavalli ricordo che il 61 cavalli va benissimo per i neopatentati poi abbiamo un turbo da 900 di cilindrata da 90 cavalli anche qui questa macchina è veramente si può personalizzare come volete con colori colore della cellula degli specchietti della mascherina cerchi in lega con un diametro da 16 pollici per la prima volta per la gamma smart per quanto riguarda invece la valutazione del vostro usato vi ricordo che sia in 4.4 abbiamo una valutazione per esempio una smart usata da dare diciamo in permuta avete sia lo sconto sicuramente ma poi avete una super valutazione in base ai chilometri che avete nel senso che la smart vi dà un centesimo a chilometro quindi se faccio un esempio pratico se la vettura ha 50.000 chilometri prendete una super valutazione di 500 euro e così via quindi questa è una campagna legata anche per quanto riguarda il finanziamento con un tasso agevolato e anche qui abbiamo l'RC e l'incendio e furto gratuito nel finanziamento per il primo anno per quanto riguarda invece gli allestimenti di questa vettura anche qui abbiamo una base che si chiama Youngster come quella che state vedendo in questo momento abbiamo un edition abbiamo una sport edition abbiamo una passion quindi abbiamo gli stessi allestimenti di 4x4 quindi è la stessa vettura però con 2,69 m di lunghezza e 1,66 m di larghezza ed ora continuiamo con la gamma Mercedes e passiamo in classe A la nostra classe A 4,30 m di macchina una vettura come vedete molto aggressiva vettura nuova nel designer nuova nelle prestazioni nei motori per il nuovo diciamo che parte da 23.900 euro e poi ovviamente se venite a trovarci sicuramente vi faremo un ottimo sconto e anche sempre per il nuovo un tasso di interesse agevolato del 2,9% parliamo invece di aziendali la vettura aziendale parliamo di style e parliamo di 1.622 cavalli benzina questo propulsore parte da 18.900 euro vetture che arrivano più o meno a 10-15.000 km un anno di vita quindi vi ricordo il prezzo di partenza 18.900 euro più ovviamente messa in strada ma poi sicuramente troveremo il modo di trattarvi il meglio possibile ricordo che abbiamo anche le supervalutazioni sugli aziendali quindi qualsiasi tipo di vettura ci portate anche da Rottamare ha una supervalutazione quindi prima dei saluti vi invito a venirci a trovare vi ricordo che siamo a Magenta in Corso Italia 40 oltre alle vetture che avete visto stasera troverete anche il resto della gamma Mercedes e inoltre non siamo solo vendita ma siamo anche ufficina autorizzata Mercedes-Benz carrozzeria e ricambi quindi abbiamo veramente un servizio completo e direi che abbiamo terminato grazie Alberto per queste splendide offerte vi ricordo naturalmente di venire qui a parlarne personalmente avete visto veramente grandi proposte per voi sia per quanto riguarda le vetture i prezzi i finanziamenti i premi permuta per cui davvero tanto tanto a vostra completa disposizione per cui ricordate l'indirizzo prendete nota subito del numero di telefono ma soprattutto l'indirizzo perché penso che la cosa migliore sia venire qui e parlarne personalmente a questo punto un grazie ad Alberto grazie Rosi e un grazie a tutti voi grazie ciao a tutti grazie a tutti